Professore, oggi qui per un convegno importante sulle novità in materia di responsabilità sanitaria. Proviamo però a tirare le somme. In concreto, che cosa cambia? Innanzitutto, come dice bene lei, è un convegno importante, vista la presenza, visto che l'Ordine degli Avvocati ha aderito in maniera così massiccia e visto anche il livello dei relatori. Cosa cambia? Siamo già quasi a tre mesi dall'uscita di questa normativa. Cambia innanzitutto la mentalità. I medici vedo che stanno lentamente recependo tutte le disposizioni, gli Avvocati stanno assimilando un nuovo modo di gestire le pratiche nel contenzioso sanitario e devo dire che tutto questo ci sta portando a una maturazione del sistema che può solo far bene visto il livello dove eravamo giunti. Grazie.